Torniamo nuovamente al confronto tra l'Honor V10 Lite e lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Lo Xiaomi l'ho aggiornato alla MIUI 10 e subito è possibile vedere come questo aggiornamento ha portato a qualche cambiamento molto interessante a livello grafico. Innanzitutto è cambiato lo stile dei toggle rapidi, come vediamo sono su sfondo bianco e con icone azzurre e si avvicina a quello del Huawei, dell'Honor, però nel caso dell'Honor le icone sono rimaste sempre le stesse, sempre molto vecchie, mentre invece a livello grafico il lavoro fatto da Xiaomi è stato molto più netto, molto più bello a mio avviso. È stata cambiata anche la barra di luminosità per quanto riguarda lo Xiaomi, non è possibile attivarla automaticamente, direttamente sulla barra, ma è presente il toggle della luminosità automatica, quindi nessun problema a poter attivare direttamente la luminosità automatica scendendo la tendina delle notifiche. Molto bello è questa colorazione bianca, grigia, per far vedere quando in pratica aumentiamo la luminosità o quando la diminuiamo. Non è presente invece la luminosità automatica direttamente sui toggle dell'Honor e non è possibile attivarla nemmeno direttamente sulla barra. Quindi, se non sbaglio, con la MIUI precedente invece non era presente il toggle, non mi vorrei sbagliare, ma non mi pare di aver visto il toggle della luminosità automatica. Oltre a questo è sempre possibile vedere, diciamo, nello Xiaomi, scendendo la tendina delle notifiche, il segnale della rete del Wi-Fi, la data, l'orologio, la batteria. Ma un'altra novità importante è che ora, rispetto alla versione precedente, è possibile visualizzare la percentuale della batteria direttamente, senza scendere la tendina delle notifiche, direttamente all'interno della batteria. E questa è un'altra novità molto importante. Poi, sempre per quanto riguarda la nuova MIUI 10, attraverso uno swipe sempre verso sinistra, è rimasto in pratica questa pagina, così come era nella vecchia versione. È stata solamente qualche rivisitazione a livello grafico, mentre il feed di Google era possibile invece scorrendo a sinistra sull'Honor, ma l'ho disattivato perché non mi serve. Facendo un pinch to zoom, è possibile sempre impostare gli sfondi, i widget e andare nel campo delle impostazioni per quanto riguarda lo Xiaomi. Nel campo delle impostazioni sono rimaste praticamente le stesse caratteristiche della precedente MIUI, quindi la possibilità di variare gli effetti di transizione, oppure di impostare la schermata predefinita, di riempire le celle vuote, di bloccare il layout e andando in altro, possiamo in pratica impostare il launcher, avere o meno l'assistente app, quello quindi a sinistra, riempire le celle, visualizzare la RAM, mostrare i suggerimenti, ma come già si aveva con la MIUI stabile 9.6, anche con questa 10.2 stabile global, non è possibile variare il layout, cioè la griglia delle applicazioni, quindi rimane sempre la stessa 4x4, che in pratica non tanto mi piace perché non riesce a sfruttare appieno le caratteristiche del... o meglio la grandezza dello schermo. È sempre possibile quindi avere in basso le 5 icone, ma non è possibile aumentare a 5 le icone, come vediamo in alto, rimangono sempre 4 le icone possibili. Sotto questo aspetto l'Honor, grazie all'impostazione 5x6 possibile, nella variazione del layout delle impostazioni, è possibile avere una configurazione molto più a piacimento per quanto riguarda le icone, l'impostazione delle icone e quindi la griglia delle icone, quindi da questo punto di vista sicuramente migliore l'Honor. Per quanto riguarda invece il campo delle impostazioni, andando in impostazione per entrambi, in pratica abbiamo infosistema e aggiornamento, non è variato sullo Xiaomi, è variato però lo stato sicurezza, come abbiamo visto sono state aggiornate le patch di sicurezza, non è variato il menu relativo alle schede SIM e alle reti mobili, non è variato nemmeno il campo sul Wi-Fi o sul Bluetooth o sull'AutoSpot e nemmeno quello dell'utilizzo dei dati. Sono rimasti quindi invariati tra la vecchia MIUI e la nuova MIUI, così come non è cambiato le impostazioni in altro. Andando in display anche in questo caso non è variato nulla, tranne se, non ricordo se nella vecchia versione era possibile questa voce solleva per attivare, se non sbaglio non era presente questa voce, era presente il doppio tocco per attivare lo schermo, la rotazione automatica, ma se non sbaglio non c'era questo solleva per attivare che è stato introdotto con la nuova MIUI 10.2. Le altre voci sono rimaste praticamente invariate. Andando in sfondo sono rimasti sempre la possibilità di impostare come sfondo o quelli presenti nella galleria magari scaricati da noi o le foto, oppure quelli preinstallati. Non è possibile scaricare nemmeno in questo caso con la nuova MIUI le foto direttamente online, così come il campo dei temi rispetto all'Honor. In pratica, mentre nell'Honor possiamo gestire un campo elevato di temi subito da scaricare, ci sono anche però quelli a pagamento, così come in pratica impostare dei caratteri a pagamento o anche degli sfondi e poi personalizzare il tutto, oppure scaricare da app terze i temi e poi impostarli in i miei temi, così come i caratteri. Non è possibile questa cosa con la MIUI, nemmeno con la versione Global 10.2, quindi chi acquista il dispositivo e all'inizio imposta come lingua italiana e come regione italiana sappia che non troverà comunque i temi. Mentre quello che sblocca il campo dei temi è, come la vecchia versione della MIUI, quella di andare a impostare come regione Singapore, Hong Kong o India, che è quella che poi utilizzo solitamente, in questo caso avremo i temi. Un'altra cosa importante riguarda i suoni e i vibrazioni, sono rimasti gli stessi, così quindi come il campo della schermata di blocco, quindi la possibilità sempre di aggiungere i dati del volto era presente nella vecchia versione e presente anche in questa versione, anche se ho notato che con la nuova MIUI 10.2 lo sblocco con il viso, che già veniva in precedenza abbastanza bene con piena luce, è migliorato leggermente, così come anche lo sblocco dell'impronta mi sembra più reattivo con la nuova versione della MIUI. Le altre caratteristiche sono praticamente rimaste le stesse che erano presenti già nella versione precedente, quindi anche in questo caso non ho notato novità, così come nelle notifiche delle applicazioni non ho notato anche in questa area, diciamo delle particolari novità, in visualizzazione a schermo intero invece c'è la prima novità. Innanzitutto la possibilità di nascondere il notch, quindi come era presente già nella versione precedente, ora è possibile farlo anche con la nuova versione. Quindi come stavo dicendo è possibile nascondere il notch come era possibile già nella vecchia versione, però in questo caso è variato un po' il senso delle gesture, perché è stata introdotta questa voce, cioè torna l'app precedente scorrendo verso il basso, quindi se io, come vediamo, tengo così, torno in pratica indietro. Mentre se vado e tengo premuto compare, come vediamo, l'ultima icona che ho utilizzato e quindi facendo il gesto di tornare indietro e tenendolo premuto leggermente posso ritornare all'ultima applicazione che ho utilizzato, quindi anche in questo caso. E questo è stato introdotto con la nuova MIUI. Le altre cose sono rimaste praticamente gli stessi, come i gesti delle due volte, la modalità schermo intero, potendo così variare per ogni singola applicazione, così come è presente nell'Honor questa possibilità, quindi per ogni applicazione possiamo gestire se far vedere o meno il notch. Poi è rimasto la possibilità del secondo spazio, così come era prima. In batterie e prestazioni c'è stata una, diciamo, una novità. È possibile ovviamente selezionare come era possibile prima. In funzione delle applicazioni possiamo in pratica scegliere se attivare o meno restrizioni, limitare, attivare o meno il risparmio della batteria per ogni singola applicazione. Inoltre, a differenza di prima, è cambiata un po' la grafica e anche le voci, perché se vado in utilizzo batteria è rimasto quello che era rimasto prima, cioè mi mostra l'utilizzo della batteria in funzione delle applicazioni o a livello hardware, quindi le applicazioni che hanno consumato di più o le funzioni che hanno consumato più batteria. Andando invece in batteria, si apre questa nuova schermata che fa una scansione e mi mostra in pratica, una volta effettuata la scansione, la capacità della batteria, la temperatura e il tempo di utilizzo come era prima, alcune voci sull'impostazione avanzata e questo che in pratica, diciamo, era presente già prima, però è cambiata di grafica. Quindi posso andare a pianificare l'accensere e lo spegnimento, attivare il risparmio energetico per disattivare quindi la sincronizzazione di altre funzioni, oppure spegnere quando è scarico, pianificare il risparmio energetico, le applicazioni che hanno consumato maggiore batteria, oppure nel caso che io in cui vado in batteria e interrompo la scansione, prima che questa termini posso aprire direttamente questa schermata senza che finisca questa sorta di menu a carrosello che mi mostra le voci per poter ottimizzare il livello della batteria. Inoltre qui rimane la caratteristica di notificare quelle app che hanno consumato maggiormente batteria o di pulire la cache quando lo schermo è bloccato o di disattivare le reti mobili quando lo schermo è bloccato. Quindi quello che è stato aggiunto è questa nuova, diciamo, grafica in questa schermata per quanto riguarda la batteria. Lo spazio archiviazione e Google sono rimaste le stesse, così come le impostazioni aggiuntive non ho notato particolari differenze, nella modalità ad una mano è sempre attivabile quando le gesture non sono attivate e quando sono presenti i tasti a schermo. Proprio i tasti a schermo sono un'altra novità perché andando in visualizzazione a schermo intero e nascondendo il touch e utilizzando i tasti, come vediamo è cambiata anche la grafica dei tasti a schermo, più bella, sicuramente molto più bella a mio avviso, poi un'altra, andando in app di sistema, non è variato niente così come in app installate e in app clonate, permessi o blocco delle app sono rimaste, diciamo, praticamente le stesse. Una novità importante è questa, che si ha con il multischermo, cioè con il multitasking. Allora, se ovviamente nell'Honor il multitasking è a scorrimento verticale, è possibile bloccare l'applicazione, fare uno swipe per eliminare la pagina aperta o chiuderla ammaccando sulla X, oppure liberare tutte le pagine, liberare tutta la RAM cliccando in basso, in questo modo vengono chiuse tutte quante le pagine, in questo caso è variata, perché da uno scorrimento orizzontale si è passata ad uno scorrimento verticale, ma con due pagine, diciamo, con due applicazioni aperte a schermata, in questo modo. È possibile chiudere tutte le pagine cliccando qui, possiamo anche vedere la RAM che viene poi liberata. Sono state introdotte queste voci che mi mostrano la gestione delle applicazioni, oppure la pulizia profonda, la scansione di sicurezza o il pulitore, che non erano presenti nemmeno nella prima versione della MIUI 10. Nel multischermo è rimasto lo stesso, quindi una volta attivo posso in pratica trascinare un'applicazione, ovviamente bisogna trascinare l'applicazione che lo consente, e poi aprire un'altra applicazione e ho il multitasking. La stessa cosa viene fatta, però è molto più rapida nell'Honor, con la versione della sua MIUI. Poi per quanto riguarda invece sempre il multitasking nella MIUI, con la versione 10 stabile, tenendo premuto sull'applicazione posso bloccarla, posso andare direttamente in multischermo, posso entrare nelle info dell'applicazione stessa, direttamente quindi dal multitasking. E questa è una cosa molto utile, che non è possibile effettuare con l'Honor. Poi, per quanto riguarda invece la gestione delle notifiche, allora, io ora ho queste notifiche. Mi sono arrivate tre notifiche, e anche questa è un'altra cosa che è stata cambiata con la nuova MIUI 10. Come vediamo, le notifiche hanno un carattere, con un contrasto maggiore, sono molto più belle graficamente e anche più visibili. Sicuramente sono nettamente più belle rispetto a quelle che invece ho nell'Honor, per quanto riguarda le notifiche. Nell'Honor, però, se nella barra di destra mi compare l'orario, la percentuale e la batteria, sulla barra di sinistra mi compare in pratica la possibilità di disattivare o meno, in questo caso compariva la modalità aereo, oppure compare la rete Team, in questo caso ho attivato, la rete Wi-Fi e un'icona. Possono comparire al massimo tre icone che arrivano, che però rimangono sempre visibili fino a quando non la disattivo. L'altra cosa interessante invece da notare è che con la nuova MIUI 10 è possibile visualizzare le notifiche, abbassando sempre la tendina delle notifiche, ma non rimangono qui a vista. Se quindi, in pratica, nell'Honor, le notifiche rimangono sempre attive qui sulla sinistra fino a quando io non leggo la stessa, sullo Xiaomi non è così. O meglio, andando in notifiche e barra di stato, è stata aggiunta la possibilità di mostrare le icone per le notifiche di arrivo. Ora io, abbassando la tendina delle notifiche, ho tre notifiche. Il numero massimo di icone per notifica che possiamo visualizzare nella parte in alto, qui a sinistra, sono tre. Quindi, quando io non mi trovo nella pagina della home iniziale, non mi compare l'orologio. Spostandomi dalla home iniziale, compare l'orologio. Quando ci sono, come in questo caso, tre icone, in pratica compariranno qua se attiviamo mostre icone per le notifiche di arrivo. Quindi, facendo questo, come vediamo, compaiono le tre icone, scompare l'orologio. Però, come vediamo, queste icone compaiono per pochi secondi e poi scompaiono. Praticamente poi scompaiono. Quindi, diciamo, non so fino a che punto ha senso questa funzionalità che è stata aggiunta con la nuova Mui e non farle rimanere stabili perché, ovviamente, io le notifiche non le ho ancora lette. Quindi, pur non avendo le lette, lette in particolare, e pur avendo impostato questa funzione di mostrare l'icone delle notifiche di arrivo, purtroppo, le stesse notifiche, come vediamo, sono comparse per pochi secondi ma poi sono scomparse. E questa, purtroppo, è una funzione che è stata aggiunta perché nella versione della Mui della vecchia Mui 9.6 non era nemmeno possibile vedere le notifiche sul notch e l'unica possibilità di vedere le notifiche così come la percentuale della batteria era solamente abbassando la tendina delle notifiche. Con la nuova versione è stata aggiunta questa funzionalità di vedere un attimo le icone, però poi queste, una volta che sono scomparse, non riappaiono più. Quindi, diciamo che appaiono e scompargono veramente per pochissimi secondi. Quindi, anche in questo caso, preferisco l'Honor che invece mi permette di vederle tutte anche se con un limite massimo di tre. Quindi, se ne ho più di tre diciamo, notifiche da vedere, comunque, almeno le prime tre mi compaiono, o meglio, le ultime tre mi compaiono. Questa funzione non è possibile visualizzarla con lo Xiaomi. L'unico modo per far riapparire l'icone è ovviamente fare in modo che arrivi una notifica. Quindi, nel momento in cui arriva la notifica, appare nuovamente diciamo, in alto e poi dopo qualche secondo scompare. Questa, diciamo, è la particolare funzione che ovviamente nell'Honor rimane è sempre stabile invece, nello Xiaomi con questa Mui Global Stabile 10.2 appare solamente al momento della ricezione della notifica stessa per poi scomparire dopo pochi secondi l'icona stessa. Quindi, io vado per esempio ad installare un'applicazione come vediamo compaiono le tre icone più è comparso un attimo la fase di scarico della quarta icona. In questo caso quindi mi compaiono quattro icone quindi mi sono sbagliato sono tre icone e qui quattro qui. Questa è un'altra funzione particolare della nuova Mui quando io scarico un'applicazione mi si apre questa pagina dove fa una scansione dell'applicazione e ci dice quindi se l'applicazione è sicura ora non so se è legata alla Mui o al Play Project questo non non l'ho ancora capito perché non diciamo che è come se io in pratica il telefono l'ho utilizzato scartato senza smanettare niente così come lo trovo in confezione così l'ho l'ho testato o solamente aggiornato alla nuova versione della Mui in questo modo posso quindi andare in dettagli e vedere in pratica i dettagli dell'applicazione viene fatta quindi una sorta di chiusura di scansione dell'applicazione e poi in aperto mi si apre l'applicazione perché ho aperto questa Custom LVP questa è un'applicazione che in pratica mi consente di sopperire alla mancanza della ricezione delle notifiche o meglio la visualizzazione fissa delle notifiche perché l'unico modo per poter visualizzare le notifiche nel dispositivo è quella di sbloccare il bootloader di installare una recovery TVRP quindi non la recovery diciamo di sistema ma un'altra recovery e da lì o scaricare le ROM Xiaomi.eu o una qualunque altra ROM che mi dia la possibilità di vedere diciamo fisse le icone alla ricezione delle notifiche e che rimangono in maniera stabili fino a quando non vengono lette oppure bisogna scaricare sempre tramite la recovery una serie di mod chi però non vuole effettuare tutte queste operazioni l'unico modo per poter visualizzare diciamo una serie di diciamo le notifiche alla ricezione quindi le icone di notifiche alla ricezione delle stesse e che vengano che rimangano stabili fino a quando non diciamo le andiamo a leggere e scaricare questa custom lvp quindi una volta scaricato questa custom lvp do tutti i consensi e ho la l'applicazione scaricata questa applicazione in pratica è una sorta di screensaver che poi mi darà la possibilità scaricando un'altra applicazione di poter vedere diciamo le icone in che modo una volta scaricata o klvp dovrò acquistare la chiave di sicurezza che ha un valore di 3 euro e 99 magari il costo per alcuni può risultare elevato però sappiate che è un'ottima applicazione che mi consente poi di visualizzare quindi diciamo che la spesa in un certo modo mi scarico quindi la chiave klvp pro dal play store e poi mi devo scaricare quest'altra applicazione da xd che si chiama super notch in pratica aprendo l'applicazione super notch questa in automatico si va diciamo a installare ad aprirsi direttamente su klvp e qui io posso scegliere in pratica quale schermata voglio avere in che modo voglio in pratica per vedere diciamo tutte quante le notifiche io scelgo questa mi si apre direttamente sul live wallpaper salvo poi vado in accesso delle notifiche per dargli in pratica il consenso a questo punto vado di nuovo qui e imposto come wallpaper imposto lo sfondo posso scegliere anche se impostarlo sullo schermo il blocco e sullo sfondo fatto questo torno indietro e in particolare come vediamo ho le notifiche in questo caso quando io esco diciamo vado nelle altre pagine mi si apre sempre in pratica l'orologio però qui ho le notifiche a vista quattro notifiche a vista quattro perché sono quattro il numero massimo non tre come era invece qui quattro sono le notifiche massime che mi sono arrivati in questo momento e che io non ho letto come vediamo sono quattro e queste quattro notifiche rimangono a vista per sempre poi tramite sempre KLVP possiamo effettuare anche ulteriori modifiche una volta al diciamo allo sfondo creato quindi cambiare lo sfondo il livello la posizione quindi abbiamo diciamo diverse possibilità quindi alla fine i 3,99 euro sono giustificati proprio per chi diciamo non vuole rinunciare alla visione delle notifiche utilizzando diciamo la versione stabile che mi consente della Mew che mi consente di vedere solamente per pochi secondi con questa applicazione spendiamoci 4 euro ma le potremo sempre vedere e le poi possiamo modificare diciamo ci sono diverse possibilità di modifica della stessa se non ci piace questa visualizzazione è possibile diciamo visualizzarla in questo modo avremo un'altra diciamo schermata come vediamo e le notifiche in questo caso compaiono qui in questo caso diciamo è differente la situazione perché ovviamente nella prima pagina l'orologio qui non compare scorrendo sulle altre pagine qui compare sempre l'orario e le icone rimangono qui io preferisco quindi diciamo questa come scelta perché mi consente di visualizzare le icone sempre in alto quando mi trovo nella prima pagina dell'home è ovvio che nel caso dell'Honor ovunque scorri le pagine le icone rimangono sempre qui mentre nel caso del dello Xiaomi con questa applicazione in questo caso le icone rimangono solo sulla prima pagina poi scorrendo rimane l'orologio ovviamente chi invece ha più padronanza con i dispositivi Android e in particolare con i dispositivi Xiaomi in particolare andando a modificare ad aprire il bootloader a sbloccare il bootloader potrà scaricare delle mod che mi consentiranno di visualizzare sempre le notifiche in qualunque circostanza però in questi casi un'applicazione del genere può superire alla mancanza della visione costante delle notifiche soprattutto per chi non vuole e non ha il tempo necessario per sbloccare o comunque non si fida tanto per quanto riguarda invece i test di benchmark tra la versione precedente e quella attuale della MIUI quindi al 10.2 sulla sinistra ho effettuato alcuni ci sono gli screenshot per quanto riguarda i test di benchmark con la MIUI 9.6 sulla destra invece gli stessi test effettuati con la MIUI 10.2 partiamo da Antutu e come vediamo c'è stato un leggero anche miglioramento per quanto riguarda il test di Antutu più o meno sempre gli stessi valori 116.000 però ho effettuato più test e comunque ha risultato sempre più alto quello con la MIUI 10.2 per quanto riguarda invece gli altri test di GIMPEC anche in questo caso come vediamo ho avuto un maggior risultato sia in single core che in multi core rispetto alla versione precedente con la MIUI 9.6 stabile e ricordo che in nessun uno dei due casi ho attivato il risparmio energetico e ho modificato nessuna impostazione di opzione sviluppatore per quanto riguarda invece il test di OpenGL anche in questo caso diciamo ho avuto più o meno gli stessi risultati tranne forse qui che è leggermente più in alto per quanto riguarda invece il test effettuato con il con GFX anche in questo caso in particolare ci sono stati diciamo dei valori più elevati poiché abbiamo 231 contro 229 fps 144 contro 143 360 contro 358 eccetera poi per quanto riguarda PCMark ho avuto anche in questo caso con PCMark un leggero miglioramento con la nuova versione della MIUI per quanto riguarda invece il test effettuato con il speed di test anche in questo caso in pratica i valori si sono diciamo si sono avuti più o meno gli stessi quindi non ho notato quindi un miglioramento per quanto riguarda la gestione del wifi quindi come erano i valori in download e in upload così sono rimasti più o meno gli stessi con la nuova versione per quanto riguarda invece il test di SD per quanto riguarda quindi la velocità della RAM in particolare anche in questo caso c'è stato un leggero miglioramento perché diciamo nel caso con la MIUI 9.6 più volte questa applicazione mi si bloccava e non ero riuscito ad avere i risultati comunque è stata leggermente migliorata anche la velocità di copiatura e di lettura della RAM così come è stata migliorata la velocità di lettura e scrittura della memoria interna anche in questo caso si era bloccata la velocità di di lettura di scrittura mentre in lettura invece è migliorato per quanto riguarda invece il GPS il GPS ho notato una cosa molto importante per il GPS con la nuova MIUI se con la versione stable 9.6 il fix all'interno di casa mia non riusciva a farlo dopo 40 minuti non era riuscito a fare ancora il fix mentre l'Honor invece il fix avveniva in un batter baleno con la nuova versione invece è stato migliorato anche il GPS all'esterno diciamo il miglioramento è netto poiché il fix dei satelliti lo fa praticamente diciamo in maniera immediata poi in questo caso magari con la vecchia versione vedeva 30 satelliti qui ne vede 28 però può essere legato anche ad una condizione meteo perché era più nuvoloso quando ho effettuato diciamo il test con la MIUI 10.2 rimane il fatto che con la nuova versione della MIUI in particolare la nuova versione della MIUI il fix sia esterno che interno è più immediato per quanto riguarda invece i risultati del 4G anche in questo caso ho notato dei miglioramenti sostanziali perché se con la vecchia versione in più casi in pratica mi aveva dato dei problemi sia in download che in upload quindi avevo fatto diversi diciamo diverse volte in pratica il 4G scompariva sembra che sia leggermente aumentata anche la ricezione e non solo la ricezione è aumentata anche diciamo è più stabile la velocità di scaricamento dei dati in download e anche la velocità di scaricamento dei dati in upload è risultata migliore e risultata migliore anche la ricezione in quelle zone dove il 4G tendennava invece ora in pratica ho notato un miglioramento sostanziale infine l'ultima cosa che in pratica ho effettuato è stato diciamo il calcolo della batteria dell'autonomia allora con tutti i test effettuati con la vecchia versione della MIUI quindi con la 9.6 in pratica ero arrivato a 8 ore e 34 con l'Honor a 9 ore e 29 con lo Xiaomi con la MIUI 10.2 facendo gli stessi test 9 ore e 37 quindi mi sembra che sia leggermente migliorata anche l'autonomia ovviamente anche per quanto riguarda la MIUI 10.2 ho effettuato un reset di fabbrica prima di di testare in effetti il livello di batteria di autonomia e di effettuare tutti i benchmark per il prezzo di 190 euro e ora con il codice scondo del 5% il suo IP lo possiamo trovare anche a meno sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro è un valido concorrente rispetto all'Honor anche se l'Honor per alcune caratteristiche per il fatto che non devi smanettare più di tanto rispetto all'Honor basta pensare ai temi che qui ci sono e qui invece bisogna cambiare la regione e chi magari non lo sa si trova un po' in difficoltà ovviamente io preferisco per ora ancora l'Honor